Ciao per tutti, il mio nome è Andrè Sorosco Estrada, sono direttore d'orchestra e questa volta sono molto felice per essere qui per la prima volta con la meravigliosa orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, qui da Firenze con un programma bellissimo, lo puoi vedere forse qui il mio nome, io sono molto orgoglioso per vedere il mio nome qui e facciamo un programma, diciamo un po', sì perché no, austriaco, vienese con un colore interessante del ravelle la seconda parte apriamo con ravelle la vals che come sappiamo è stata ispirata nel vals vienese ma è una, diciamo, una versione un po' più interessante e dopo la seconda opera, il secondo pezzo della seconda parte è questa, Strauss, del Rosenkavalier questa è una suite del Cavaliero della Rossa un'opera anche molto vienesa, molto austriaca ma che sembra con questi sapori, diciamo, questa bellezza vienesa del vals e di altre cose questa è la seconda parte e nella prima parte suoniamo anche una sinfonia di uno di questi grandi maestri austriaci Haydn, una sinfonia di Haydn in Do maggiore una sinfonia bellissima, interessante, con diversi colori ma una, diciamo, una forma molto classica e dopo di questo anche del maestro Haydn un solista dell'orchestra tu puoi vedere così, Marco Salvatori uno dei loboi principali dell'orchestra è un loboista maraviglioso che abbiamo fatto già tante prove adesso siamo pronti per il concerto suonerà il concerto per oboe di Haydn e per me è un grande piacere suonare con lei con questa maravigliosa orchestra e qui dal Maggio Musicale Fiorentino, Firenze e lo facciamo anche una seconda volta io sono molto felice di fare questo concerto due volte e la seconda la facciamo in Arezzo e anche per me la prima volta in Arezzo lo conosco per nome ma la prima volta adesso aspettiamo che tutto il mondo viene al concerto e felice insieme possiamo fare una serata o due serate molto bella con questa musica con questa maravigliosa orchestra da Firenze e con lei nel pubblico grazie mille, ciao!